Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un nuovo episodio della serie europea e oggi si va a produrre finalmente il nostro bellissimo olio di colza perché sì, il nostro frantoio non è solo olietto d'oliva ma è anche olio di colza e olio di semi io qua, amici, adesso devo riuscire ad uscire dal labirinto qua con la mia trebbia ecco, per fortuna sono uscito di qua, perfetto, perfetto, la mia bellissima class, la mia bellissima class Trion 720 abbiamo due mega camponi di colza da raccogliere allora, ovviamente ci avvaleremo anche degli operai, insomma ci faremo aiutare, ci faremo aiutare a posto mettiamoci qua, chiappiamo la lama, a postino, lama chiappata allora, mentre che si dispiega io vorrei fare un piccolo giro perché non mi ricordo se il caseificio eh, sì, ok, il caseificio, l'oleificio, è tutto, ok, ho venduto tutto, ho venduto tutto, ok, perfetto quindi non devo assolutamente star a pensare a vendere la roba mi serve il carro che però credo di avere al biogas se non vado errato vediamo un po' se ho il carro al biogas, credo di sì, credo di sì, allora aspettate, vai, è attaccato direttamente al landini prendo il landini eh, scusate, è attaccato direttamente quello, spero che non sia pieno di cacca perché lo uso maggiormente per scaricare la roba al biogas no, non è pieno di nulla, ok, perfetto perfettino, non è pieno di nulla perciò usiamo usiamo questo per la nostra bellissima raccolta colza andiamo un po' a vedere anche le offerte dei veicoli usati eh, no, niente che mi, che mi interessi o che mi serva ok lo mettiamo qua di latino questo va bene, il campo di colza, quello più piccolino che ci dovrebbe rendere il 95-96% perché comunque qualche operazione l'ho saltata non l'ho fatta sempre per i soliti motivi oh, 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 buono tutti dove sto a andare? buoni tutti, buoni tutti che spacco tutto non è che da qua devo iniziare, devo iniziare da là devo iniziare da là, da lì a là da lì a là devo iniziare, da lì a là ecco, inizio da là qua inizio da là oh, porca miseria vabbè, facciamo una cosa inizio da qua però ecco, col muretto lì per fare la testata inizio da là ma inizio così perché se no non so come buttarmi in mezzo al campo oh, è la prima volta che trebio la colza su farming e simulator 22 mi pare, no raga mi pare che non l'avevamo mai fatta o sbaglio mica mi ricordo non lo so raga voi dovete sapere che la mia mentina non è che si ricorda proprio tutto 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 ok cap view cap view e l'irrealismo è qua perché sapete che se fai cap view giochi realista sei figo Robinello entra ufficialmente nel club dei fighi con un tasto con il tasto cap view ecco qua quindi olio di colza e olio d'oliva e eh c'ho anche intenzione di avviare come vi ho detto nelle scorse puntate lo zuccherificio così non solo facciamo zucchero ma inizieremo a fare anche cioccolato nel nostro caseificio perché con lo zucchero il caseificio vi produrrà anche dell'ottimo cioccolato tutto già seminato barbabietole e cosine varie poi dopo lo zuccherificio e tra l'altro le barbabietole tritate le useremo anche nel biogas quelle che avanzeranno un campo deve essere sempre per forza barbabietole perché voglio dire se dobbiamo fare le bietole eh e e poi rifaremo l'orzo rifaremo l'orzo il frumento insomma quella roba lì perché dovremo comprare anche il forno prossimo obiettivo sapete io vado ad obiettivi prossimo obiettivo sarà comprare il forno per fare le torte perché qua non voglio fare produzione di pane voglio fare torte perché il pane lo facciamo nell'altra serie perciò mi piace differenziare le due serie di produzione eccetera eccetera dare un senso alle due alle due carriere un senso diverso e perciò metteremo faremo anche una bellissima zona serre tutta a fragole toglieremo quelle serre generiche che abbiamo lì lì abbiamo una serrettina generica avete visto ecco la toglieremo la toglieremo e ci metteremo saluto sempre a Remo è una zona di 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 serie di fragole assolutamente assolutamente come se non ci fosse un domani per quanto riguarda la fienagione dobbiamo fare il fieno vedo che il fieno un pochetto scarseggia perciò fieno a tutto spiano fieno a go go anzi direi che intanto si può già mettere un operaio a sfalciare col fieno allora mettiamo l'operaio qua sulla classe affinite de fare e noi prendiamo il bellissimo il bellissimo lamborghini si il lamborghini e lo mettiamo a sfalciare dobbiamo fare fieno eh quindi lamborghetto fieno ok così così lo so che il 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 fend è troppo grosso per mettergli il il cosino il volta fieno ma non vedo alternative raga o mettiamo le lame al fend vogliamo mettere le lame al fend e al lamborghini mettiamo il volta fieno ma si dai ma si dai facciamo così facciamo così allora mettiamo al lamborghini il volta fieno e al fend gli emettemo gli emettemo le lamotte ok sì perché bisogna sbrigasse ragazzi stiamo a luglio belli eh non è che potemo aspettare troppo tempo poi le balle non le metterò più sotto lì perché se ne stoccano troppo poche vedete metterò le metterò sotto sto capanno qua e sotto lì ci metterò i mezzi se ne stoccano veramente troppo poche ok aspettate che questa ci ha preso davanti ok sentite la stazione meteo che rumore che fa quel rumore che sentite fa quella è la stazione meteo spostiamo la pala gommata che sta in mezzo alle spelotas ok perfetto mamma mia che bella aziendina agricola che ho fatto eh la zona biogas fatto proprio una bella aziendina agricola raga a postino a postino lì purtroppo ci ho girato con la trincia in quel punto lì e ho trinciato un pezzetto d'erba peccato ma non c'è bisogno di riseminarla perché me la dà in in stato di crescita allora vediamo un po' le andana no eh le andana no 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 andana no spargimento ampio che devo fa fieno vai 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 io vado a prendere il landinuccio ok il landinuccio lo mettiamo dietro vadi vadi sto mettendo gli operai normali eh non credo di necessitare della dell'autotra della cosa scusate della come cacchio si chiama del cosplay credo che lavora benissimo anche così allora un attimino l'ho dispiegato però c'è bisogno di un po' di vantaggio ovviamente l'operaio quello lì perché 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 sì allora nel frattempo vediamo lui a che punto è quanto abbiamo prodotto eh 8000 litroni ok tolgo l'operaio me ce li metto io togliti operaio togliti me ce li metto io faccio l'ultima strisciotta scarico e gli cambio il campo gli cambio il campo non gli cambio il campio ma gli cambio il campo ok e qua ve lo ripeto ci metteremo orzo e frumento perciò autunno vermini perciò a novembre ottobre novembre la semina comunque un campo il campo 40 ma prodotto abbastanza perché abbiamo riempito la trebbia direi che ci può stare visto anche che non avevamo fatto tutte le lavorazioni direi proprio che ci può stare ci può stare devo dire che ci può stare ecco guardate guardate che graziosità che graziosità allora a posto scaricamus adesso sarà più facile entrare nel campo di là perché praticamente ho disboscato tutta la parte vedete non ci sono più gli alberi adesso ci vado ci vado tranquillamente tolto tutti gli alberoni che mi danno fastidio e non ho finito tra l'altro devo ancora togliere altri alberoni oh che butti tutto per terra meno male che non c'è lo scarico per terra se no stavamo sempre a raccogliere la roba intanto andiamo qua come sta a tagliare lui come sta a tagliare boh no sta a tagliare abbastanza bene sta a tagliare abbastanza bene però intanto gli faccio un giro di questo no vabbè dai non gli faccio un giro di niente sta a scaricare poi calcolando che devo rinallare con la lama devo ritaccare la lama me ce vuole un pochettino me ce vuole un pochettino ok un attimino eh che stacco appoggio la lamona un saluto a ramona che ci segue allora appoggio la lamona che bella sta cosa che 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 carica da sola avete visto che spettacolo non mi devo più stampazzi ragazzi ok ma guardate quanto è bello disalberato sto posto ah guardate attraversi e si è arrivato attraversi e si è arrivato e senza un miliardo di alberi in mezzo a le ballette di fieno oh guardate qua guardate qua a posto rimettiamo la lama sempre attenzione alle macchine che qua sono pericolosissime poi perlomeno nell'altro farming si fermavano quando tu facevi manovra qui proprio non gliene può fregà di meno cioè ti dicono proprio non te vedo e non te sento allora fatemi fa la testata perché non vorrei che girando va sbatte poi lì dove ho messo la recinzione ho messo la recinzione perché in live ero andato de sotto praticamente stavo seminando mi ero distratto a leggere la chat e sono andato de sotto come un sottomarino un yellow sunbarine a proposito amici vi ricordo che io sono in live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20 e 30 sull'altra piattaforma dove se avete amazon prime potete venirvi ad abbonare gratuitamente al mio canale e giocare insieme nella serie dedicata agli abbonati nel server nitrado che ringrazio sempre per il server e a proposito se volete acquistare anche voi il server nitrado sia per console sia per pc sia cross platform potete farlo dal mio link affiliazione nitrado questo è sempre molto importante da sapere adesso io che cosa faccio metto qua l'operagliuzzo l'operagliuzzo mettetti mettetti l'operagliuzzo lì mettetti e lui lo mando a dare il primo scarico qui ci dovrei avere un po' di colza proprio di inizio puntate vi ricordate quindi non è la prima volta che trebbe la colza non mi ricordo se è qui o la serie americana ci dovrei avere eccola quatt'era oh uno spruzzetto ammazza mille litri no non era la prima volta perché in effetti c'avevo mille litri è vero comunque porto questi 10.000 litri alla fabbrica mando lui alla fabbrica mando direttamente lui alla fabbrica dove siete belli dove siete belli what do you what do you hear allora che sto a di non lo so vai qui e vai qui vediamo se ce va perfetto nel frattempo noi possiamo anche cominciare o a fienaggiare a fienaggiare che non è mai una cattiva idea fienaggiamo raga fienaggiamo che è importante fienaggiamo e no e no e no che leon 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 che fai non mi non mi rilevi la la larghezza di lavoro aspettate non mi rilevi la larghezza di lavorone dai ma che fa ma che ma che larghezza ma ma cosa sta succedendo ma cosa diavolo sta succedendo cosa diavolo sta succedendo allora datemi un attimo eh inizia di lavoro uno oh se vede che se vede che si è rincoglionito raga aspettate quant'è sto sto volta sto volta cosino qua quant'è sto volta cosino ehm volta fieno aspetta no no quello che c'ho io mi serve volta fieno questo è da ehm 17 metri perché non me lo dà perché non me dà 17 metri ma che mi è stato più apperculto 17 metri vai vai 17 metri 17 metri ma 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 non è 17 ma come cacchio sta lavorando oddio ragazzi era rincoglionito l'auto l'illecoso si era rincoglionito si era rincoglionita la 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 scusate visualizza l'internet guida che se lavoro scarlatura dell'attrezzo meno 8 e 5 forse era quello che mandava tutto eh si era quello era quello che sfasava tutto bah chissà com'è successo non lo so vabbè comunque abbiamo trovato abbiamo trovato il colpevole ecco mo si che funziona bene eh che cacchietto che cacchietto oh mo funziona bene ragazzuoli ecco mi sento un altro già mi sento un altro ecco oh mo funziona bene è bloccato da un oggetto l'aiutante ma che sta a dire lavora lavora non mi fa arrabbiare lavora allora vediamo oh lui è arrivato amici lui è arrivato lui è arrivato perciò facciamo il primo scarico di colza ufficiale per la produzione del nostro olio di colza robimello 81 andiamo qua scarichiamo e ovviamente ricordatevi sempre di attivare la produzione una volta che avete messo gli ingredienti attivate la produzione quindi andate qua olio di colza e vai quindi esattamente con lo stesso dosaggio dell'olio d'oliva e l'olio di girasoli con due litri di colza fate due litri d'olio quindi non sprecate nulla quello che buttate dentro ve ritrovate perciò olio d'oliva e olio di colza attivate adesso lui lo rimandiamo ovviamente in farm ed io chiudo qua ragazzoni ringraziando innanzitutto tutti voi per la visione tutti quelli che hanno seguito il video fino a qua grazie di cuore tutti quelli che lasceranno un bel like perché il like è gratuito a voi non costa niente per me è importantissimo quindi un bel like attivate la campanella eccetera eccetera e vi ricordo in descrizione il link instant gaming per comprare giochini scontatissimi adesso ci sono i saldi di capodanno andate a vedere perché è tanta tanta roba e poi il link per comprare farming e tutto ciò che riguarda i prodotti giants dai miei link affiliazione partner da aiutarmi così verso la scalata verso la partner d'oro vi ricordo che sono argento grazie a tutti quelli che hanno comprato il gioco dal miei link ma ragazzi adesso si avvicina anche il dlc perciò potrete o acquistare il season pass che conterrà anche il prossimo dlc oppure anche il dlc quando uscirà il link che non è ancora uscito il link affidazione ma sicuramente presto sarà disponibile anche quello detto questo amici vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie per la visione!